Non è stato certo un consiglio d'amministrazione uguale agli altri, quello che si è riunito in via Locchi a Derezzo da tre giorni estra nell'occhio del ciclone mediatico dopo il passo d'addio del direttore Alberto Irace e sia chiaro che Irace non si è dimesso per i numeri che sono tutti a suo favore. Le motivazioni sono più profonde legate al tema delle strategie, degli assetti, della governance, del progetto di aggregazione che oggi vede una pausa di riflessione perché gli azionisti e anche gli attori politici legittimati a discuterne vogliono avere il tempo per rivedere e rimodulare la progettualità nel segno di una maggiore inclusione, di una governance più diffusa, capace di coniugare il progetto multiutili con tutti i territori che ancora devono essere inclusi nella multiutili. Quindi dobbiamo distinguere chi fa la gestione da chi fa strategia e processo di aggregazione e hanno ragione i sindaci a pretendere che siano loro a dettare le regole in questi ambiti. Ecco c'è stato un ritorno a far ricordare di fiamma proprio dei sindaci del cosiddetto potere legale. No, è successo un fatto rilevante, le elezioni amministrative hanno cambiato il 75% dei sindaci che governano l'area fiorentina del centro-nord e che governano Alia. Quindi gli dobbiamo dare il tempo di vedere se convalidano la progettualità, se rimodulano il progetto e anche noi abbiamo il dovere di non accelerare con atti che anticipano il progetto multiutili. Spica un aspetto, non di poco conto, la posizione di Macri è molto simile a quella espressa dal segretario regionale del PD Fossi, ma non parliamo di compromesso energetico.